Avremmo pagato anche noi qualche volta gli attori giovani, io lo sto facendo, tu? Io sì lo faccio, vuoi bene, tu più che altro lo fai alle attrici, Gio. Io adoro stare con Fabio, è come un fratello maggiore. C'è rimasto solo il pensiero. Senti ma tu hai iniziato a cucinare perché tua moglie ti tiene? Io gli ho fatto fare un corso adesso a mia moglie. Ti hai abbinato a lei, è l'insalatina di... Sì, sì, no però io gli ho fatto fare un corso adesso, ho deciso, adesso devi imparare e la prima, insomma il primo gradino del corso è dove sta la cucina? Poi l'altro che sta la cucina... Tra me c'è una guida rossa, l'educente... Mia moglie fa tutte, qui ci sono delle ricette semplicissime, per esempio pane con la pasta. Immaginate un primo e gli dicevi che faccio il pane con la pasta, la pasta col pane. È un po' d'olio in una pentola, in una padella, una pentola, con un po' di pane che può essere o crattugiato o anche sbriciolato, il pane poco sbriciolato. Lo fai praticamente a rosolare e ci metti un po' di vino rosso. Quando diventa una pastella, veramente, ci metti la pasta e tu non sai che te mangi. Devi solo metterci un po' di sale, ma poco poco, un pizzico, che poi non so che cos'è un pizzico. Quando dicono un pizzico, un pugno, io perciò non ho messo le dosi. Perché è tutto a occhio, mia nonna cucinava a occhio, non è che è pesato. Quindi è come quando uno suona a orecchio. L'arte è più... è vero? E beh, sembro un cracco. L'arte è molto uguale, è un mio modo di parlare, è come niente. Quando vieni in Italia sarebbe carino anche... Vorrei sapere perché ho la suocera, invece, che adesso... Vorrei sapere per mia sua suocera, che adesso... Che lui conosce, che lui conosce, Ivrea. Perché hai abbinato i fagioli. Mia suocera è l'unica donna che si è autoclonata, rompe le palle per due. Quindi fagioli? No, mia suocera, quando io sono andato a casa sua la prima volta, intanto, molto tirchia, ed è per questo che... No, 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 solo questo, molto tirchia. Mi ha praticamente fatto assaggiare un piatto che io non mangiavo a casa mia. I legumi, i faggiori, io proprio no, ma per motivi proprio senza spiegarli. E invece, quando sono andato a casa mia suocera, li ho accicinati in tantissimi modi che mi sono piaciuti. E da allora sono amante di fagioli. Ma c'è proprio un capitolo, un... No, ma adesso lui ce lo racconta. ...dedicato a mia suocera. Vado con Ivrea, eh. Vai. Allora, nonostante Ivrea abbia sposato un uomo molto benessante, lei è una delle persone più tirchie che abbia mai conosciuto. Tu conferma, ferma. Confermo. L'aggettivo tirchio potrebbe suonare un po' forte, ma credo che sia quello che più le si addice. Parsimonioso, infatti, è troppo delicato. Questo lato, per il suo carattere, emerge in modo particolare a tavola. Quando ci sedevamo tutti, tra figli, genitori, nonne, fidanzate, arrivavamo anche a essere dieci, dodici a tavola. Lei prendeva un pomodoro, lo tagliava a fettine sottili, sottili. Tenete presente che mia suocera tagliava a mano il prosciutto stagionato, facendo delle fette perfette, ci sente? Manco avesse usato la fettatrice. Perciò, tagliare un pomodoro per lei era uno scherzo, e riusciva a riempire almeno due piatti con le fette di un pomodoro solo. Per pre... allora, poi prendevo una mozzarella e la mettevo a tavola. Noi ci guardavamo in faccia, tra lo stupore e la fame, come a chiederci, questo è l'antipasto o il contorno? In realtà, a casa della mia futura moglie, non esisteva un concetto di antipasto primo o secondo. C'era una cosa in mezzo alla tavola, quello era il pasto. Se eravamo in sé, a tavola lei preparava quattro fettine di carne, tanto avanza sempre, esclamava alle nostre poteste. Poi io non la voglio, a Maria non gli piace, tu ne mangi la metà, gli altri due fanno un po' per uno. Stessa cosa per la frittata, noi in otto lei metteva cinque uova. E faceva questa frittata sottile, sottile, sottile. Poi Ibrea chiedeva, ci avete ancora fame? Immaginate, sette, otto creature, tutte nell'età dello sviluppo. E urlava, sì, sì, e lei? Ecco, potrei fare un panno in olio. Poi metteva in tavola nel cesto con la frutta e lo sconforto lì aumentava. La frutta che mia socia comprava e compra è del tutto particolare. I cocomeri hanno le dimensioni dei meloni, i meloni le dimensioni delle arance, le arance hanno le dimensioni delle pesche, le pesche le dimensioni delle albicocche. Le albicocche sembrano lucide, anche per il colore. Naturalmente mia socia era la frutta, la mangia sempre. Vedere Ibrea che sbuccia un frutto è uno spettacolo. Con le sue armi di mani rubate alla chirurgia estetica, taglia la buccia con una tale precisione che non ne rimane neanche l'ombra della volta del frutto. Se prendi quella buccia e la metti contro luce, puoi guardarci attraverso. Di solito mi richiamava, Gabriele, cosa fai? Stai lasciando tutta la mella attaccata alla buccia. In realtà io sbuccio la frutta come qualsiasi altro essere umano. Questo è successo una delle prime volte che sono andato a mangiare da Maria. C'è la futura moglie, poverita. I figli di Ibrea, per non essere rimproverati, la frutta non la mangiavano proprio. Ora la evito anch'io. Purtroppo di questa brutta esperienza è rimasta a mia moglie una traccia indelebile. Lei prepara un primo a pranzo, un secondo a cena. Così, con un pasto, noi mangiamo due volte. Maria continua a ripetere che mangiare troppo fa male e che a lei piace praticare la dieta dissociata. Ma io sono sicuro che sia rimasta per sempre segnata dalla sua infanzia. Quando Maria cominciò a venire a pranzo, a cena a casa mia e viene tutti i piatti che erano in tavola, pieni di ogni tipo di verdura, funghi, insalata, pomodori, pasticci, patate, carne, paste, di tutto e tutto in quantità industriale, mia moglie si commosse. Per non parlare della frutta che mia madre metteva in tavola, Maria prendeva una pesca e chiedeva Uuuuh, e questa cos'è? Una pesca? Davvero signora, ne posso portare una mia madre? O anche Augusta, che sarebbe il nome della straordinaria mamma di Gabriele. Augusta, ma questa frutta te la sei fatta spedire dalla rabbia saudita? Siccome la mia famiglia non se la passava molto bene, mentre quella di Maria era molto benestante, mi sono sempre chiesto se esistesse una proporzione diretta o una disproporzione inversa, o comunque una sottile relazione tra la tavola impandita di mia madre e i soldi dei miei suoi. grande, non c'era molto migliore per interpretare per capire, no, ma veramente, sai che ti stimo? anche che, non c'è, non c'è tutto in mezzo a me. ti stai calato perfettamente nel... sì, sì, so di cosa andiamo leggendo e parlando. questo è uno dei tanti capitoli, perché sono dei ricordi ai quali poi ho appunto messo dietro delle ricette intanto volevo, ma se si fa una mia cosa però fate per me, come se fossi io a farlo, un grande applauso a Flavio perché, no, 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 no di solito, non c'è il video che ho fatto oggi per me è una cosa molto molto bella quindi ti ho voluto dedicare questo applauso fatto da fare? no, non l'ho qua, no, 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 anzi No, sono un ricorso del tante Invece ci vuoi raccontare Tu, che qui l'hai descritto molto bene Come te la scavi in cucina Io? Quale capito? Ciao mamma No, no, no 18 Allora Ah! No, è l'espressione che sta scritta sul libro Ah! Il ragù, i cannelloni, le tagliatelle Le lasagne, lo tombal Luca pretto cacciatore Prescite in italiano, eh? La parmigiana L'agnella allucottore A quante cose bisogna rinunciare Quando si fa via da mamma E anche da nonna Io ai fornelli faccio talmente schifo Che mi dicono che cucino con la pentola impressione Così ho provato a comprare qualche rivista Edizione economica di cucina Avete mai cercato di prepararvi da mangiare Seguendo le indicazioni delle riviste di cucina? Vi imbrogliano Intanto vi fanno vedere una foto del piatto finito Più bella di una natura morta del Caravaggio Anche a me viene sempre una natura morta Ma pare morta sotto a un camion Pare una centrifuga di interiore di velociratto La terminologia usata in genere è questa Se è necessario Aggiungete Ma che ne so io se è necessario Sei te la ricetta, mica io Oppure i bastardi dicono il giusto Oppure quanto basta Non troppo E certo che potevano dire Lo sbagliato, il superfluo Oppure esagerate pure Tanto che la dovete mangiare a voi La tastiera che viene fuori Un ciuffo di prezzemolo Quanto è un ciuffo? Può essere un copone Una faccina Uno stelo Che è un ciuffo? Boh Lo stesso vale per un mazzetto Per esempio di basilico Chi ce ne mette tre foglie? Chi ce ne fa entrare un cespuglio? Un pizzico? Oppure un pugno? Io le darei in carcio un fascia Un'altra trappola Un'altra trappola è quando dicono Un cucchiaio Ci sono cucchiai grossi Come pane di escavatori E cucchiai con sciroppo piccoli Come cotton fiocche Che è un cucchiaio? Che è? Il top poi È quando danno per scontato Che tu abbia sei in braccia E 24 fornelli Perché dicono Impastate Mentre a parte frullate E nel frattempo fate cuocere Oppure E lo versate nell'impasto Che avete predisposto a parte O anche intanto riscaldate O ancora mescolate Mentre su un altro fuoco Fate pulire il casson Porfa Ho capito perché ci danno del voi Prendete Aggiungete Mescolate Perché per cucinare Bisogna essere realmente in otto Insomma Se provate a seguire una ricetta Finite con un centro di genere mentale Prima che il cuorlo si separe dall'albume Ora vorrei dare io una ricetta E vado a chiudere A chi normalmente scrive queste cose Rovinando la vita di noi massaie o massaie Ehi voi statemi bene a sentire Dopo aver ben tritato Irrorato Mescolato Tagliuzzato Battuto Frullato Bollito Scolato Condito Sciolto Mondato Guarnito Rassodato Parcito Lessato le mie palle Andatevene un po' a fare Però dopo di questo Sei diventato un vero scelto Perché adesso